Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Limone Piemonte una tavola rotonda dal titolo Treno della Val Roia, una tratta europea. Presente anche l'assessore regionale Ligure ai trasporti e al turismo Gianni Berrino che si è confrontato con i suoi colleghi piemontesi e francesi. Crediamo molto nelle potenzialità non solo dal punto di vista trasportistico ma anche turistico della Ferrovia Cuneo Ventimiglia e dell'intera tratta transfrontaliera Nizza Cuneo dal cui potenziamento passano grandi opportunità di sinergia tra i territori di Piemonte e Liguria ha detto l'assessore Berrino. Con lo stanziamento di 29 milioni di euro da parte del governo cui potrebbero aggiungersi i 30 da parte del governo francese sarà possibile aumentare la velocità di percorrenza dei treni e aprire nuove linee come la Torino Nizza e la Torino Imperia che potrebbero avere una straordinaria ricaduta sia nella vita quotidiana dei tantissimi pendolari sia nell'intercettare flussi turistici importanti anche di respiro internazionale. Alla riunione di Limone Piemonte era presente anche l'ex consigliere regionale Ligure Sergio Sibilia.